Wewe ragazzi e bentornati nel nuovo rapporto di stato di casa base del 3 novembre 2020 Salve comandanti, gli spaventi e tormenti di Fortnite, l'incubo stanno per lasciare salva il mondo Mentre questi contenuti ritornano nella loro cripta il 20 novembre, diamo un'occhiata a cosa ci aspetta nelle agghiaccianti settimane finali Più tardi calerà sicuramente il gelo, ma cercate comunque di tenere il sangue freddo comandanti Questa settimana è l'ora del dolce con la mitragliatrice leggera Candy Corn Quando il pericolo bussa alla tua porta, la Matt Candy Corn sa sempre cosa fare, travolge gli abietti con queste chicche festive La Matt Candy Corn, ovviamente un'arma che vi consiglio assolutamente di prendere Sarà disponibile dal 6 novembre, all'una ora italiana, nel negozio dell'evento Mentre la prossima settimana avremo il predone metallico Clip si è davvero scatenata per creare questo dispositivo di lancio black metal Utilizza munizioni esplosive per lanciare razzi a lunga gittata che infliggono danni ai nemici a medio raggio Il predone metallico sarà disponibile dal 13 novembre all'una ora italiana, sempre nel negozio dell'evento Ci vediamo sul campo comandanti Ebbene sì ragazzi, il rapporto di stato-casa base è tutto qui Un po' corto e un po' senza contenuti possiamo dire Quindi per colmare un po' quello che è il video di oggi andremo a vedere qualche leaks in giro E soprattutto andremo a vedere se hanno patchato qualche bug importante, quello delle perk delle armi Insomma, andiamo a farci un giro su Trello Allora ragazzi, semplicemente abbiamo ancora non risolto il crash nell'endurance Gli abietti che fanno danno agli obiettivi delle missioni attraverso i muri Anche questo bug sarà ancora presente purtroppo Hanno risolto fortunatamente i bug delle perk Quindi non avrete più bisogno di droppare in terra l'inventario Oppure buttarvi giù dalla mappa per appunto ripristinare l'utilizzo delle vostre perk Hanno patchato un altro bug quando si aprivano i lama Nel prossimo aggiornamento vedremo patchata la cancellazione dell'overboard Nel momento in cui lo stiamo utilizzando dentro la tempesta E attenzione che i lama Wild West non garantiscono al 100% armi steampunk Poi tramite un noto leaker di Salva al mondo ma anche di Battle Royale Vediamo introdotto Powerhouse In italiano sarà casa potere? Oddio non lo so, vedremo Comunque incrementa il raggio di onda d'urto del 112,5% come comandante E del 37,5% come vantaggio squadra E arriverà sotto forma di set insieme a quest'arma Pare proprio una R Dicono e quindi mettiamolo tra tante virgolette In quanto potrebbe essere comunque veritiero o no Ma questi lo sappiamo tutti i leaks potrebbero essere veritieri o no Dicono che quest'arma sia come il Gammatron 9000 Quindi come la R fantascientifico Fucile Electroshock Fucile d'assalto Spara colpi energizzati ad alta precisione a una velocità moderata Per danni elevati e sostenuti Infligge danni energetici che è abbastanza efficace contro tutti i nemici di tipo elementale Poi prendete sempre con le pinze le informazioni che sto per darvi In quanto la stagione 3 delle venture riciclerà la serie di missioni invernali dello scorso anno Ma forse, e ci tengo a sottolineare Forse, aggiungeranno una nuova serie di missioni In seguito come hanno fatto questa stagione E sarebbe bello vedere magari l'ambientazione di Frost Knight nelle nostre venture Chissà quali sorprese ci riserva la nuova stagione Per questa stagione purtroppo è tutto Questo dovrebbe essere l'ultimo rapporto di stato di casa base per questa stagione infatti Quindi non fatevi scappare mi raccomando Clip, i Cavaliere di Palude, tutti gli eroi comunque di quel set Ricordatevi di prendere tutti i super caricatori dalle venture Se possibile finitele prima che sia troppo tardi Le venture ricordiamolo che finiranno sempre in concomitanza con la stagione di Battle Royale E se siamo fortunati può essere che magari venga estesa fino a 1 o 2 settimane dopo Però ragazzi il mio consiglio è prendete sempre in considerazione comunque la fine della stagione di Battaglia Reale Così non sbaglierete mai Io ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video Mi raccomando se avete ulteriori domande fatemele pure qua sotto con un commento Il set che abbiamo visto dell'eroe e l'arma liccato è semplicemente un altro set che verrà aggiunto a pagamento Quindi come quello del samurai scatenato no? Per intenderci Per questo video era tutto noi ci vediamo alla prossima Bella bella